Continuano le presentazioni dei nuovi acquisti del Rimini che dopo Agnello, Letizia, Mendicino e Paramatti dà ufficialmente il benvenuto al centrocampista classe 91 Lorenzo Remedi proveniente dal girone A di Serie C in cui è militato con la casacca della Gianna Erminio collezionando 19 presidenze e due reti e al difensore centrale Cesare Ambrosini classe 1990 arrivato dal Sondrio in Serie D. Chi è arrivato nuovo sembra che sia di questa squadra da mesi quindi io arrivando nuovo ho fatto fatica a capire chi fosse qua da mesi e chi fosse qua da qualche giorno è una cosa assolutamente positiva e ho trovato un ambiente prepositivo disponibile quindi davvero tutte le carte regola ci sono ora tocca a noi. In uscita arrivano altre novità i biancorossi scambieranno con il Monopoli il difensore Filippo Oliana per dare spazio a Daniele Cavallari difensore classe 1998 cresciuto proprio nelle giovanili di Rimini e Cesena. Il portiere Under che dovrebbe essere Gabriel Meli classe 1999 dell'Empoli arriverà invece lunedì. Federico Scappi infine ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla società. Mi è arrivata la chiamata e abbiamo parlato il progetto era quello che insomma che spingeva a farmi venire quindi ci ho pensato veramente poco poi nel giro di praticamente due giorni l'abbiamo chiusa e sono venuto subito qua.